Meno 10 comincia domani la lunga, appassionante ed incerta volata finale del campionato di eccellenza. Si parte da questa situazione di classifica, comanda il Gallipoli ma in un fazzoletto di 4 punti. Ci sono addirittura 5 squadre senza dimenticare poi Vigortrani, Omnia e Bitonto e Molfetta che hanno uno svantaggio dalla betta di una sola cifra e possono ambire almeno ad un piazzamento playoff. Due gli incontri di cartello della giornata, il primo lo giocheranno alle ore 15.30 al Vito Curlo, Fassano una delle inseguitrici della capolista e proprio la prima della classe, il Gallipoli. I padroni di casa sono chiamati a riscattare il doppio recente K.O. consecutivo, quello nella finale di Coppa Italia con il Trani e l'altro di domenica scorsa a Terlizzi con il Molfetta. Molto interessante si preannuncia anche l'incrocio del Capozza a fischio di inizio previsto alle ore 15 tra Casarano e Omnia e Bitonto, due delle pretendenti agli obiettivi più prestigiosi. Ad approfittare degli scontri diretti in scaletta intanto potrebbe essere, o meglio, sarà l'US Bitonto secondo in classifica a meno uno dalla testa della graduatoria. I neroverdi di Gino Zinfolino infatti non avranno problemi a battere al Città degli Olivi i giovani del Galatina ossia la cenerentola dell'aggruppamento. Ricco di interesse è comunque tutto il programma della domenica di eccellenza. C'è al comunale il derby della BAT tra Vigor Trani, squadra decisamente in fiducia, e Unione Calcio Bisceglie in forma. Comincia di fatto un periodo molto intenso per i biancazzurri di Massimo Pizzulli impegnati sia in campionato che in Coppa Italia dilettanti l'esordio nella fase nazionale. È fissato per mercoledì 21 febbraio in casa contro la vincente della finale campana in programma fra quattro giorni. Tra Nola e Savoia fanno parte del triangolare del Trani anche i Lucani del Lago Negro. Intrigante si preannuncia pure l'incrocio tra Corato, che avrà il fattore campo a disposizione, e un Barletta che non può permettersi di lasciare altri punti per strada. Se vorrà accorciare il margine della zona salvezza, completano il programma, l'impegno in trasferta del Molfetta ad Otranto si giocherà alle ore 15.30, e la sfida salvezza tra Vieste e Aradeo.